Dottore, è corretto dire che esistono diversi tipi di fibrillazione atriale? In realtà la fibrillazione atriale è una manifestazione aritmica che ha diverse fasi, non diversi tipi. C'è una fase in cui la malattia parossistica esordisce improvvisamente e si risolve spontaneamente nell'arco di minuti e ore. C'è una fase in cui la malattia ha un'espressione più prolungata e in cui può permanere per un periodo superiore alle 24 ore, generalmente inferiore a una settimana, e di nuovo avere una ripresa spontanea del ritmo sinusale. In questo caso viene definita persistente. Quando la situazione invece si prolunga a tempo indefinito con l'aritmia che non recede mai, si parla di fibrillazione permanente. Dottoressa, nelle fasi in cui l'aritmia si risolve da sola, mia mamma può rimandare la cura? Ma questa è la tentazione nella quale cadono tanti pazienti. Pensano che l'episodio di aritmia, una volta arrivato ed è andato via, non abbia più bisogno di nulla. La verità è che forse l'aritmia che entra ed esce è ancora più pericolosa dell'aritmia che invece rimane persistentemente. Adesso che è stata fatta mia mamma la diagnosi di fibrillazione atriale, che cosa si deve fare? È necessario intervenire per cercare di ripristinare il ritmo sinusale con l'uso di farmaci appropriati o con un intervento che si chiama defibrillazione elettrica, che consiste nel dare una scarica elettrica ad alto voltaggio per ripristinare il normale ritmo sinusale. In casi particolari, l'aritmia può essere prevenuta con uno specifico intervento da parte dell'elettrofisiologo che si chiama ablazione dell'aritmia. I medici che hanno visitato mia mamma le hanno prospettato la possibilità di fare una defibrillazione. Loro l'hanno chiamata cardioversione. Dottoressa, mi aiuta a capire che cos'è questa cardioversione? Cardioversione vuol dire intervenire sul ritmo che il cuore sta avendo in quel momento per riportarlo in un altro ritmo. Quindi convertire un ritmo in un altro. È un po' come quello che succede in casa quando l'impianto elettrico sta invecchiando e qualche volta c'è qualche lampadina che oscilla, ha la luce che va e che viene. Ecco, in un modo un po' un esempio semplice, la cardioversione può sembrare uno spengo e riaccendo. Lo posso fare questo spegnere e riaccendo o con un farmaco che viene iniettato in dovena oppure somministrato per bocca o con una scossa elettrica che lascia stordito il cuore per un attimo sperando che poi parta con il passo giusto. Dottore, con queste cure mia mamma potrà guarire completamente? Una guarigione completa e definitiva non è acquisibile dopo la comparsa della fibrillazione natriale. Le cure hanno successo che è variabile tra il 60 e l'80% dei casi. Durante le cure qual è il medico di riferimento che avrà mia mamma? Tutti i pazienti che fibrinano e quindi anche la sua mamma dovrebbero poter contare sul loro medico di famiglia che dovrebbe essere quello che conosce tutta la storia personale del paziente e anche la storia familiare. Dovrebbero contare in questo caso specifico sul cardiologo che è il meccanico del cuore, quindi colui che si occupa di rimettere il motore in funzione correttamente e poi su un medico esperto di anticoagulazione che dovrebbe essere quel medico che collaborando con il cardiologo e collaborando col paziente, che non è un dettaglio, sceglie qual è il farmaco anticoagulante, cioè il farmaco che fluidifica il sangue, quel tanto che basta perché non formi dei trombi nel cuore che fibrilla, ma non troppo perché il paziente non sanguini, che è sempre la paura più forte che il paziente che deve fare un farmaco antitrombotico ha, quello di avere delle emorragie irrefrenabili. Ora che ha la fibrillazione atriale mia mamma potrà continuare a condurre una vita normale? Penso che i pazienti debbano capire bene che tipo di malattia hanno, che tipo di problema hanno e poi piano piano riprendere la propria attività nei limiti delle loro possibilità guidati da un medico che non pretenda da loro troppo e non pretenda da loro troppo poco, prendendo bene le medicine che devono prendere e soprattutto riabituarsi ad una vita normale che include tutte le attività quotidiane, cucinare, passeggiare, non sedersi sul divano, non sentirsi malati e perché no anche avere un'attività sessuale regolare per chi ha il privilegio di poterla avere. Voi medici farete squadra per aiutare mia madre? Per forza dobbiamo fare squadra perché il paziente non è fatto di tanti pezzi, il paziente è un intero e quindi dobbiamo comportarci come succede un po' nei box di Formula 1 quando molto rapidamente e molto efficientemente ogni persona specializzata deve fare la sua parte e in quel modo forse riusciamo anche a vincere la gara che è la vita del nostro paziente, una buona qualità di vita. Insomma prevenire è meglio che curare? Beh oggi prevenire è un obbligo, le risorse che sono a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale lo vediamo tutti i giorni, sono sempre più scarse, le malattie cardiovascolari nel loro insieme sono l'epidemia non solo dei nostri giorni ma le previsioni sono drammatiche per il futuro, siamo diventati molto più bravi nel curarle ma purtroppo la quantità di persone che è destinata ad ammalarsi nei prossimi 20, 30, 40 anni è molto alta e soprattutto è uno spreco non prevenire malattie che sono altamente prevenibili come le malattie cardiovascolari che in un caso su tre potrebbero davvero essere evitate e non con degli esami strumentali costosi ma con la presa di coscienza di quanto impatta lo stile di vita su una predisposizione che può essere ereditaria. Dottore che consiglio si sente di dare a mia madre? La mamma deve imparare a convivere con questa condizione, riconoscere i segni e i sintomi che l'accompagnano quando questa si manifesta e imparare a gestire la propria cura nel modo più appropriato. Per il futuro non è immaginabile per nessuno che si possa essere curati bene se non si para a curarsi.